Buonasera a tutti gli amici del Teatro Toselli di Cuneo, in particolare buonasera a Dino Rossetti, a Beppe Ghisolfi, a Danilo Paffarelli, a Gian Maria Aliberti Gerbotto e mi sia permesso per orgoglio patriottico binazionale un saluto alla chef Silvana Musei. Vi ringrazio dell'opportunità di questo video saluto dall'Albania, da Durazzo dove vivo e lavoro. A malincuore non posso prendere parte in presenza alla vostra stupenda cerimonia di premiazione, però in ossequio al concetto di buona volontà voglio rivolgere a tutti voi in remoto ma vicinissimo nel cuore un saluto e un augurio di buon lavoro. Porteremo la buona volontà anche in Albania e con persone come Beppe, Dino e Silvana di fatto ci siamo già riusciti. Ciao!